Le mafie ci hanno abituato a fare attenzione ai segni, i segni e i segnali per i mafiosi sono importanti e allora nel costruire un'Italia senza mafie sono importanti i segni e i segnali di libertà, di memoria e di rispetto. E' per questo motivo che abbiamo proposto per ricordare Angelo Vassallo, per stare accanto alla sua famiglia, per ridirci ancora una volta che i sogni non vengono uccisi dal piombo e che il modo migliore per ricordare le persone è proprio quello di portare avanti i loro sogni. Abbiamo proposto per venerdì alle 10 e mezza di fermarci tutti per un minuto, fermarci tutti, ovunque saremo, qualunque cosa staremo facendo, alle 10 e mezza di venerdì fermiamoci un momento perché alle 10 e mezza di venerdì comincerà il funerale di Angelo Vassallo. E' questo nostro fermarci che sia un segno, un segnale forte per i mafiosi, che c'è un'Italia che non si fa intimidire, che continua a resistere, per quella famiglia che sia un abbraccio perché vorremmo davvero essere tutti lì ma non possiamo e per noi stessi perché la nostra dignità passa dal coraggio, della memoria e dell'impegno. Venerdì alle 10 e mezza, un minuto, ci fermiamo tutti. Per Angelo Vassallo.